Salve ragazzi e bentornati con News da Soccer e benvenuti a questa puntata numero 23 Nella scorsa puntata abbiamo concluso la terza stagione, iniziato già la quarta Siamo rimasti sempre al Forest Green e proveremo a portarlo già in Premier League da questa prima stagione E tra l'altro siamo partiti anche bene con due vittorie su due in campionato Ma quest'oggi partiremo subito con la partita di qualificazione per i mondiali contro la Francia addirittura Ma prima ragazzi come al solito io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione Detto ciò direi che possiamo iniziare subito partita con la Francia, siamo carichi prima contro seconda Purtroppo però i secondi siamo noi quindi bisognerebbe provare a portare a casa una bella vittoria E anche se in Inghilterra non siamo le stelle della squadra però sicuramente ci stiamo imponendo anche qui Per esempio in questo caso bisogna fare amicizia tra piccolette con i compagni quindi proviamo l'assist che arriva 1-0 in un modo un po' confuso ma arriva Qui addirittura chance per il tiro, dai gira, 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 no pensavo che il vento me la spostasse di più, peccato Comunque adesso attenzione alla reazione francese, mi arriva il secondo gol, 2-0, oggi ragazzi Possesso palla per noi, possiamo calciare in porta, il tiro è ottimo, arriva il gol del 3-0, doppietta in nazionale Addirittura attenzione ragazzi, ok anzi in realtà è il primo gol, poi è arrivato l'assist prima Comunque dai 0-3 all'intervallo, ottimo risultato ma la Francia prova a riaprirla Qui ragazzi Simone Figo fa il pallonetto, ci ho provato, occhio che è perfetto, non ci credo Pallonetto precisissimo, 4-1, gol assurdo, occhio che c'è anche il colpo di testa No, niente, con i colpi di testa non c'è nulla da fare, qui attenzione, palla lunga, dai No, troppo corta, peccato, è passata e arriva l'assist, anche qui in un modo molto confusionale Ma arriva il gol del 5-1, addirittura ci fanno battere la punizione, è troppo corta, troppo corta e debole, peccato Comunque 5-1 dai ragazzi, dai dai dai, dai che ci siamo e termina qui la partita Vittoria, maiuscola, doppietta e doppio assis dai, che allora sicuramente con l'allenatore siamo a posto La squadra ancora bisogna migliorare tanto e con i tifosi stiamo iniziando ad ingranare E passiamo anche al primo posto nel girone che è sempre una cosa molto importante Comunque adesso che cosa abbiamo? Si torna ovviamente col Forest Green Qui uscita con la fidanzata che va sempre considerata perché altrimenti giustamente si arrabbia Qui, primo turno di Coppa contro il Cardiff dovrebbe essere la Carabao Comunque dai, palla lunga qui, no, troppo lunga qui, brutto errore, infatti palla persa Occia, bisogna dosare la forza, occia qui, tiro precisissimo, arriva il gol del vantaggio 1-0 per noi, bene così, possibilità di dribbling, benissimo Ok, qui bisogna passare perché il tiro è troppo complicato, anche il tiro diciamo tramite il compagno Però almeno abbiamo realizzato un passaggio Qui ancora chance però di testa, di fare un passaggio, ti prego vacci e segna pure 2-0, bene così, doppietta Il Cardiff dovrebbe stare un po' più giù, diciamo nelle leghe quindi dovrebbe essere una partita abbastanza agevole per noi Qui ragazzi riesci a scattare tu, riesci a scattare, soprattutto riesco a far arrivare il palone lì Occhio, no, troppo lunga, per poco però peccato, 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 chance finale, vai Vai, 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 benissimo, assista, 3-0 Fantastico, andiamo anche alla ripresa, il Cardiff prova a riaprirla subito Dai, facciamo il quarto gol così posso anche rifiatare un po' Qui, farlo andare un po' più qua Mentre io però provo anche a calciare in porta Occhio che il tiro è precisissimo, bene così, 4-1 Adesso posso rifiatare un attimo Ma c'è ancora la chance di un assist che arriva 5-0, bene, iniziamo subito ad incrementare il nostro score Ok, dai, adesso però la partita è praticamente finita Dai, così, fischio finale, perfetto Doppietta e triple assist Partito il Cardiff e si avanza al prossimo turno di Coppa Che dovrebbe essere la Carabao Il casino lo rifiuto e andiamo in campo contro l'Aldesfield E mi sa che all'intervallo bisognerà utilizzare e bere più che altro un drink Comunque, palla subito per noi Possiamo provare il destro troppo largo Brutto tiro Brutto tiro e brutto errore Qui devo assolutamente provare a passarla Dai, tira bene, niente da fare Niente, niente da fare Dai, faccio l'Aldesfield Che non è una squadra semplice da affrontare Ok, arriva il gol Già pensavo di rischiare pure questo tiro Comunque, va bene, così 1-0 siamo in vantaggio Dai Dai, ancora una chance No, arriva il pareggio dell'Aldesfield addirittura Quindi siamo costretti a berci un bel drink E giocare questo secondo tempo all'arrembaggio praticamente Partiamo subito con questo dribbling Bene, così Qui prova a servire questo qua Però è molto complicato come tocco Vediamo E infatti parla troppo lunga Peccato, peccato L'Aldesfield addirittura è in vantaggio Adesso bisogna un attimo cacciare fuori gli attributi Sbagliato il tiro qui Questa è una buona chance Ma possiamo riprovarci subito Dai con l'assist La palla passa 2-2 Bene, così Dai ragazzi Puntiamo a 3 vittorie su 3 anche in campionato 3-2 L'abbiamo ribaltato Attenzione ragazzi 4-2 Senza che io faccia nulla E infatti non succede nulla Ok, va bene, lo stesso Addirittura 7,4 Pensavo di più Comunque, va bene Fallisce subito il nostro primo uomo partita Tra virgolette Ma va bene, comunque Adesso 3 su 4 Comunque, va bene, dai Ancora con sto casitò Non ci voglio andare Partita con l'Ars City Il casino è un rischio Perché poi Il mister ci becca E non ci faccia Comunque si perde il rapporto con l'allenatore Comunque, subito in vantaggio Col per noi Contro l'Ars City Un'altra squadra nobile Della championship inglese Anche della premier Ovviamente Qui il passaggio Niente assist Stavolta Va bene, lo accetto Lo accetto Lo accetto Ma non lo condivido Qui possiamo ancora andare Dai, passala Che è meglio Infatti arriva L'assist tranquillo Per così dire 2-0 per noi Dai Ok Alzala Non ti metto di mezzo Ok, perfetto Bene, bene Qui potrei calciare Sì dai Proviamoci Se vogliamo raggiungere Quota 100 goal Bisogna fare anche Goal del genere Quindi sono contento Di aver trovato Lo specchio della porta Qui ottimo Dribbling Lo vedi quello solo lui Solo abbandonato Al suo destino È perfetto ragazzi 4-0 Dai Secondo tempo che qua Possiamo giocarcelo In scioltezza Almeno che l'Ars City Non combini Qualcosa di assurdo Ma non direi Siamo già praticamente Al settantesimo Una chance per noi Vai un po' avanti Vai un po' avanti E prenditi sto pallone Fammi fare un altro assist Bene 5-0 Così anche i compagni Sono più felici Dai Punteggio netto Non subiamo goal Addirittura chance Per un altro assist Così i compagni Sono sempre più felici Bene così 6-0 Dai Più 5 con la squadra Ok Doppio goal E 4 assist Ancora Un'intervista Nell'ultimo periodo Ce ne stanno uscendo Parecchia Comunque Un gioco di 2 metà La squadra migliore Su carta No Alla fine della giornata Oltre la luna Tutto il giorno Ok Io Mi aiuto molto Ripetendo Ripetendo Quello che sta scritto Perché Così appunto Mi ricordo più facilmente Comunque per il momento 4 su 4 Solamente Il Birmingham Ha fatto come noi Ma Fa niente A lungo andare Bisognerà Niente Ma perché sono fissati Con sto casino No Non ci voglio andare Si è buggato Comunque QPR 22esimo in classifica Però è comunque Il QPR Quindi Dovrebbe essere Una partita Non così scontata Comunque Infatti Siamo subito In vantaggio Va bene Dai qui Possiamo Provare a passare Fantastico Dribbling Possiamo attaccare La palla Qui dovevo Farlo muovere Errore mio Dovevo farlo spostare Dovevo farlo correre Più avanti Infatti Arriva il pareggio De QPR Possesso Palla Per noi Prova ancora L'assist Vai No Brutto Brutto Qui alcune scelte Sbagliate Proprio da parte mia Occhio Dai almeno Ok Chance Molto Importante E arriva il gol 2 a 1 Effettivamente Non potevamo sbagliare Da quella distanza Adesso andiamo Alla ripresa Per provare a chiudere i giochi Però occhio alla reazione Degli avversari Qui Tu Vai Segna È tutto per te No Sì sì Perfetto Perfetto Assist E arriva il 3 a 1 Classico ormai Dai Possibilità di dribbling Un altro gol E posso anche Rifiatare un po' Siamo nella 3 quarti Vai tu Vai tu Vai tu No Dai che ce la fa Sì che ce la fa 4 a 1 Bene così Ottimo assist Adesso sì che possiamo Metterci Con un cuoricino Possiamo anche Tentare E trovare Soprattutto Il gol Del 5 a 1 Dai adesso è veramente finita Perfetto Anche il 6 a 1 Un altro punteggio Tennistico Bene Doppietta E doppio assist Livello 23 E direi che ragazzi Stiamo facendo Il panico Anche in Championship E possiamo Puntare Forse Molto probabilmente Anche qui subito Ad una promozione Lo shopping Vado a farlo Non c'è problema Ok Aggiustiamo tutto Benissimo Ok E direi che Abbiamo aggiustato Un sacco di roba Quindi Va bene così Possiamo andare a giocare Partire contro il Crew Alessandra Alessandra Del Dario Qui Subito Vantaggio Per Alessandra Appunto No Ho sbagliato ragazzi Oddio Ok Meno male Non mi dire che ho bloccato La registrazione Ok Tutto a posto Scusate Raga Purtroppo mi è partito il dito Per fare i dribbling Ho alzato Il coso di Di sotto Come si è visto Effettivamente Infatti ho fallito un dribbling Che per me È una cosa assulta Solitamente Dribbling Non lo sbaglio mai Qua ce la fa Da andare avanti Però devo farla passare Giusto Alla in mezzo Infatti Brutto tiro Ma occhio che arriva addirittura È gol Qui proprio Gol Non voluto Quando deve entrare Per forza Succedono queste cose Meglio così Comunque siamo in coppa Quindi bisogna provare Ad andare avanti Il più possibile No L'ha parata convinto Che riuscisse a segnare Colpo di testa Molto importante Schiaccia Niente Troppo colto Peccato Peccato Forse dovevo calciare Da quell'altra parte Si va addirittura A supplementare Occhio che siamo stanchi Possesso palla Riesco a prenderlo Sì che riesco a prenderlo Ti prego E arriva il gol Del 2 a 1 Bene così Ok Prendiamoci un drink Nel dubbio E giochiamoci La ripresa Ma anche al massimo Delle energie Così proviamo a segnare Dai Occasione per noi Occasione Occasione per noi Il tiro E arriva il gol Così dai Miglioriamo La nostra prestazione Perfetto E infatti Riusciamo a beccarci 10 Penso anche grazie A questa doppietta Comunque 62 dollari E possiamo continuare Contro il Chartron Quest'oggi Stiamo facendo Tantissime partite a raffica Belle rapide E giusto così Bisogna fare così Altrimenti La stagione è troppo lenta Infatti ragazzi Siamo alla 23esima Puntata E già siamo alla quarta stagione Per esempio Una cosa del genere Con FIFA Sarebbe ovviamente Impossibile Perché E' strutturato Totalmente In modo In modo Differente Ma è giusto così E' giusto anche Diversificare Con i giochi Comunque dai Continuiamo Qua c'è una partita Da ribaltare Chance per noi Vai Corri Corri che te la do Corri che te la do Segna Benissimo 1-1 Stavo per dire 2-1 Ma purtroppo è ancora 1-1 Vediamo un po' Di Arrivarci Nel secondo tempo A questo Cavolo Di 2-1 Dai che la prende lui Benissimo Ottimo passaggio Anche abbastanza lungo No niente Ma è inutile Peccato Rigore No Fallo tirare a me Vabbè Con i rigori Io non sono per nulla forte Quindi va bene Lo stesso Qui il tiro Occhio che è buono E arriva il gol Grazie al vento Del 2-1 Siamo in vantaggio Ve l'avevo detto Che è arrivato Per 2-1 Attenzione Dai Ultima chance Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Piano 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 Dai tira No era tutto perfetto Per il tiro è troppo debole Peccato Comunque arriva il fischio finale 10 in pagella per noi Più 1 Più 1 Cioè comunque Più 4 Più 4 Più 4 Ok Adesso 6 su 6 per noi E siamo anche Da sole A primo posto Comunque il Cardiff Stava in championship Quindi comunque Vuol dire che abbiamo fatto Una vittoria Di un certo spessore Pure in coppa Comunque Ovviamente Quella fidanzatina Che va calcolata Quindi altrimenti Si arrabbia Adesso Sheffield United Le figure misteriose Non ci interessano Quindi Andiamo subito Qui di testa No troppo corta È brutto passaggio Qui dovevo prenderla Più sotto Ma qua Un altro colpo di testa Abbastanza importante Arriva il gol Bene Ottimo 1-0 Benissimo Benissimo Passaggio ancora per noi Fai Olè No Aveva girato benissimo La palla Ma Arriva il palo Qui devo spaccare tutto Sul primo palo Vai Così Bellissimo Bellissimo 2-0 Anche col vento Qui ha preso un giro Ancora più interessante Il pallone Comunque Possiamo ancora andare Colpo di testa Fai del tuo meglio Niente Si fa respingere il tiro Occhio dai Cerchiamo di andare All'intervallo Sul 2-0 Sarebbe veramente importante O addirittura Sul 3-0 Perché effettivamente Qui c'è la chance Ti prego Niente Tiro ancora una volta Sul difensore Comunque Fine del primo tempo Andiamo subito Alla ripresa Qui chance Per far andare Il compagno Eh L'ho alzata troppo Ma Il tiro è arrivato comunque Però Non un gran che Qua Vai tu Vai tu Vai così Dai che è perfetta E No Era perfetta Perché non vogliono segnare Dai Ecco qui Infatti arriva il gollo Dello Sheffield Era tutto perfetto No Non stai in fuorigioco Quindi vieni dritto per dritto Dritto per dritto Devi venire Dritto per dritto Dai No Non ci credo Due traverse ragazzi Ma è assurdo No Mi sa che lo Sheffield Deve pareggiare Perché altrimenti Non si spiega sta cosa No Arriva il gol Del 3-1 Va bene 4-1 Evidentemente Non posso fare l'assist Finisce qui La partita Comunque Grazie alla doppietta E Gli ottimi passaggi Riceviamo comunque Il 10 In pagella Continuiamo anche A guadagnare subito Punti Dalla seconda In classifica Facciamoci anche L'ultima partita Per oggi Contro il Nottingham Forest Diciamo Forest Green Contro Nottingham Forest Quindi La battaglia Delle Forest Qui tiro troppo centrale Troppo Troppo centrale Ma arriva comunque Il gol del vantaggio Stiamo facendo Il panico Ragazzi Tu Vieni assolutamente Qui Ti devi muovere Ti devi muovere Ti devi muovere Troppo forte Ok Cioè siamo Troppo forte La pressione Sul telefono Proprio Comunque Tu vai qua Corri Ma io provo A centrare La porta Se il vento Mi aiuta È il gol Ed è il gol Ed è il gol 2 a 0 Bene 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 Sono contento Di questo Ottimo gol Qui possiamo Riprovarci Occio che è buono Pure questo Ma arriva Alla traversa Sfortunatissima Arriva il gol Del Nottingham Che riapre La partita Attenzione Nel secondo tempo Arriva il 3 a 1 Ragazzi Pure la squadra Sta andando bene Però Rigore per il Nottingham Che effettivamente È un problema Qui Dai È tutta per te È tutta per te No palo ragazzi Non ci credo Il passaggio era perfetto Pure in questo caso Vai 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 Dritto per dritto Dai Dai Così Dai perfetto Dai Sì Bellissimo Assist 4 a 2 Bene bene Ottimo Gioco di squadra Ma ancora una volta Il Nottingham Che la riapre subito Qua non posso Assolutamente fallire Il tocco Dai che è buona E arriva il 5 a 3 Che dovrebbe Per chiudere i discorsi Ti prego Ok Benissimo 5 a 3 Grandissima vittoria Dopo A Doppio assist Record distanza goal Sì effettivamente Abbiamo fatto un goal Abbastanza lontano Comunque 8 su 8 Devastanti Schiaccia sassi Incredibile Impressionante Pazzesco Eccetera eccetera Nuovo contratto Di spazioizzazione Perfetto Diciamo Dei cosmetici Se non ho letto male Comunque vabbè Prossima partita Contro i Bolton Quindi affrontiamo Il nostro passato Su FIFA Il nostro passato Su FIFA E appunto Dopodiché Abbiamo Tante partite Anche la coppa Contro i Wolverhampton Leeds Ipswich Town Eccetera eccetera Partite che vedremo Nella prossima puntata Comunque concludiamo Questa di puntata Con 16 gol 18 assist In 10 partite Ovviamente Questo qui È reso conto Complessivo 9 uomo Partita Su 10 Abbiamo mancato Solamente uno Come abbiamo visto oggi Comunque ragazzi Io per l'appunto Per oggi posso Fermarmi qua Siamo quasi A 1000 dollari Bene così Io vi invito a lasciare un like Un commento Ma soprattutto Iscrivetevi al canale A seguirmi sulla pagina Instagram Noi ci vediamo Ad un prossimo episodio E ciao a tutti